Il territorio della Toscana, osservato dal satellite per rilevare i movimenti anomali del suolo, le deformazioni, gli smottamenti e gli spostamenti pericolosi degli edifici, è il progetto di monitoraggio satellitare del territorio illustrato a Firenze nel convegno dedicato anche al nuovo codice di protezione civile. Lo studio è stato commissionato dalla Regione Toscana, prima in Italia, al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, con l'obiettivo di riuscire a intervenire prima che si verifichino scenari di emergenze e disastri. Adesso il problema per noi, lo vedremo poi quando faremo la legge per la protezione civile regionale alla luce del nuovo codice, è tradurre queste informazioni, strumenti di governo che dovranno riguardare ovviamente noi stessi, penso dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista della tenuta del territorio, ma anche i comuni in modo particolare, poi tutti quei settori dello Stato che sono interessati ai problemi del governo. Al progetto toscano di monitoraggio satellitare guarda con attenzione anche la protezione civile nazionale e in prospettiva c'è la possibilità di utilizzarlo anche per rilevare gli abusi commessi sul territorio, già è possibile osservare quelli di grandi dimensioni. Non si tratta soltanto dell'attività edilizia, anche se esiste anche in Toscano un'attività edilizia di una certa dimensione non autorizzata e non regolare. Si tratta anche di rilevare altri abusi di trasformazione del territorio che non sono stati regolarmente autorizzati, che non sono congrui. L'ottica in cui si inquadra il progetto di monitoraggio satellitare, ha spiegato Rossi, è quella della riduzione dei rischi sul territorio della Toscana.